Si fa paura, è più sconosciuta, sì. Si fa paura per un'ulteriore ondata? Sì, certo, anche per l'economia che ne conseguirà. Un po' spaventa, però l'importante è vaccinarsi. Come qualsiasi cosa inizialmente sia un po' spaventosa e poi dopo si affronta. Come abbiamo affrontato il Covid si affronta anche la Delta. Sono già vaccinata, per cui sì, sono tranquilla. Ho sentito che copre anche questa variante, per cui sono tranquilla. Non c'è paura di un'ulteriore ondata? No. Anche se i contagi stanno aumentando? Secondo me le cose peggiori sono già passate, confido che le cose vadano in meglio. È abbastanza, ci pensiamo sopra tanto di abbastanza. Secondo lei succederà in Italia quello che sta già succedendo in Francia, in Inghilterra, un aumento esponenziale? Speriamo di no. La speranza ovviamente è quella di non chiudere, ma l'idea? L'idea a settembre, a settembre, vediamo. A settembre. Le zone rosse no, forse qualche zona gialla, ma non andremo oltre secondo me. Speriamo più che altro. L'economia ne sta già soffrendo adesso, quindi veramente a Delta o meno, comunque dobbiamo cercare di andare fuori in qualche maniera. Sicuramente siamo stanchi, ma ce la possiamo fare.